Luci che illuminano le tenebre è il titolo del volume di Pasquale Totaro che è stato presentato a Palazzo Lascaris. L'evento è stato promosso dall'Associazione per il Tibet e i diritti umani, istituita presso il Consiglio regionale. Il libro è dedicato alle storie dei martiri, dei giusti e delle figure esemplari, vittime di genocidi e persecuzioni, a partire dalla tratta dei neri fino alle tragedie tuttora in corso.